Salve, bentornati a lezione di Excel in pillole. L'argomento di oggi è il 2.2.3, ovvero usare il comando di ricerca per trovare dati specifici in un foglio di lavoro. Bene, apro Excel. Per trovare qualcosa all'interno di Excel è sufficiente fare clic su questa icona della barra multifunzione relativa alla scheda, chiaramente, home. Quindi se stessi in una scheda diversa, ricordiamoci prima di far clic sulla scheda home, e quindi dalla barra multifunzione all'estremità destra del nastro, nel gruppo modifica, oltre al riempimento, cancella, eccetera, l'ordinamento che vedremo nelle prossime lezioni, c'è anche il binocolo trova. Questo serve a trovare, ma serve anche a sostituire. Infatti se apriamo l'elenco a discesa di questa icona, abbiamo bisogno di trovare, sostituire, vai a, che abbiamo già visto in un'altra lezione, che è attivabile anche con tasti F5, e altre cose che vedremo in seguito. Adesso fermiamoci solo su trova, il prossimo argomento sarà poi sostituisci. Facendo clic su trova, ecco, notate che se lasciate il puntatore fermo a qualche istante, si vede, viene suggerito, il comando di scelta rapida per raggiungere questa finestra di dialogo. Quindi chi la usasse spesso potrebbe usare shift più control più t per cercare qualcosa. Un ambiente di browser, ecco, all'interno del browser, è ctrl F, quando siamo all'interno di Word, Excel, PowerPoint, per cercare qualcosa è shift ctrl T. Io lo uso spesso e volentieri questo strumento, quindi uso spesso e volentieri questa scorciatoia, shift più ctrl più 3T. Shift o maio sullo stesso tasto è quella freccia rivolta verso l'altro, ce ne sono due sulla tastiera, una a sinistra e una a destra. Bene, andiamo su trova, per aprire la finestra di dialogo, trova e sostituisci. Bene, diciamo che io voglio trovare, ecco, Claudia, ecco, vado a cercare Claudia, scrivo Claudia, Claudia, ecco, e faccio clic su trova successivo, ecco, viene trovato Claudia, poi ancora Claudia, ancora Claudia. Attenzione, vedete, lui fa la ricerca per righe, ecco, perché è scritto qui. Io potrei anche fare la ricerca per colonna, per esempio cerchiamo, ecco, Luigi, non, chiudo un attimino qui, faccio una cosa, faccio in modo che Luigi sia scritto tante volte così, così vediamo meglio questo aspetto. Quindi, magari ci mettiamo nel mezzo qualche grafico, così vediamo che praticamente, lui comunque satta. Chiaramente, ecco, se io trascino una cella all'interno di un'altra, lui mi chiede se sono presenti già dei dati, intendo sostituirli, faccio clic su ok. Quindi un modo per sostituire magari un nome Luigi con, per esempio, un nome diverso, Claudia, è quello di scriverlo, come abbiamo visto un'altra volta, o se già è scritto qualche parte, basta prendere quello che già abbiamo e lo trasciniamo, per esempio, su questo Luigi. Ecco, questa operazione corrisponde ad un'operazione di spostamento, vedete, che vengono lasciate delle celle vuote. Se io intendessi invece copiare Claudia in questa posizione, basta tenere premuto il tasto CTRL. Bene, fatto questo, ecco, notate pure che è stato copiato anche il formato. Poi vedremo come, magari, copiare il contenuto della cella e non il formato in altre lezioni. Torniamo alla scheda, alla finestra di dialogo, trova e sostituisci. Apro, trova, ecco, è facile qui scrivere, per esempio, Claudia e cercare Claudia dove è scritto. Attenzione però, ecco, prima vediamo lui fa tutti i giri di Claudia, Claudia, quello lì, poi trova un altro Claudia, ancora un altro, e ogni clic chiaramente trova il successivo e poi, chiaramente, riprende il giro, ecco. Chiaramente questo modo di procedere è per righe. Notate una cosa, ecco, Claudia, 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 così, ecco, vediamo, vediamo che lui procede dove è trovato questo Claudia, va qui e va qui. Le prime due volte sembrava che procedeva per colonne, non è così perché qui non c'è nessun Claudia, quindi per forza di cosa esatta alla riga successiva. Però, ecco, la ricerca avviene per righe, cioè sulla riga, quindi se io sto qui e ti chiedo cerca Claudia, non mi troverà Claudia, eventualmente è scritto qui sotto, ecco, facciamo così, copio, Claudia qui. Se sto qui e gli dico cerca Claudia, lui non cerca Claudia che sta sotto, cerca Claudia che sta a destra, perché qui ho scritto, ho scelto cerca per righe, verifichiamo questo, vedete? Beh, non ritorno indietro, se io invece volessi cercare per colonne, allora basta che cambio, qui scelgo anziché righe, colonne, trovo successivo, lui mi trova questo. Un'altra cosa importante è che io posso cercare in questo foglio oppure nell'intera cartella di lavoro, quindi non solo in questo foglio, lui può estendere la ricerca anche in un altro foglio. Ora se mettiamo sul foglio 3, io scrivo Claudia, ecco, lo copio prima, in senso, qui è più conveniente fare copia e incolla, chiaramente, vado sul foglio 3 e lo incollo qui. Ecco, vedete, ho incollato, quando si sceglie incolla ci sono varie scelte, ecco, si possono incollare diverse cose, ecco, il contenuto della cellula così com'è, oppure sulle valori, oppure le formule, oppure, ecco, abbiamo ancora trasponi, formatazione, incolla collegamento, queste cose le vediamo in un'altra lezione. Per adesso mi interessa che in un foglio diverso abbiamo scritto due volte Claudia, e verificare che scegliendo, cerca nell'intera cartella di lavoro, lui, dopo aver finito la ricerca, vedete, qui continua a rimanere questa cella selezionata e animata da questi trattini, significa che ancora copia è attivo, potrei inserire anche uno di qua di copia, sapete che se incollo, ecco, col tasto invio, automaticamente finisce la procedura di copia. Vado avanti, quindi, per colonne, trovo successivo, ecco, lui già ha finito e passato a quell'altro, ecco, ancora trovo successivo, trovo successivo e riprende il giro. Questo a volte lo fa per colonne, vedete, dovrebbe inserire pure quell'ultimo, eccolo qua, questo qui, infatti lo cercate, poi cambio a foglio, perché cerca nell'intera cartella. Vediamo qualche altra opzione, qui vedete, maiuscole e minuscole, se io attivo maiuscole e minuscole, è facile che non trovi nessun Claudia, ecco, attivo maiuscole e minuscole, ecco, però, siccome l'ho scritto correttamente, Claudia minuscole, scritto Claudia minuscole, lo trovo. Se io qui scrivessi Claudia, per esempio, con la C, come andrebbe scritto, con la prima lettera maiuscola, e vado a cercare, non trovo nessun Claudia, mi dice, non è possibile trovare i dati cercati, perché lui tiene conto della differenza tra maiuscole e minuscole, questo Claudia scritto qui da cercare è diverso dai Claudia che abbiamo scritti in questo foglio e anche in quest'altro. Invece facciamo finta che qui, Claudia, l'abbiamo scritto correttamente con la C maiuscola. Bene, vado nel foglio precedente, ecco, mi riporto in una cellula qualsiasi che non importa e gli dico trova successivo. Chiaramente l'unico che troverà è quello del foglio 3, trova successivo, infatti trova questo Claudia, dopodiché rimane femmo lì perché non ce ne sono altri. Posso anche utilizzare confronta intero contenuto, il che significa che lui troverà qualcosa, torniamo a Claudia con la C minuscola, ecco, prima non attivo questo, trova successivo, lui trova Claudia, se io scrivessi qui semplicemente Clau, ecco, Clau, trova successivo, lui comunque trova Claudia. Lo trova perché non è stato messo il flag su questa casella di controllo, se io voglio che lui trova soltanto Claudia per esteso, quindi l'intero contenuto della cella, appena scrivo Clau, è chiaro che non trova nulla, perché non c'è nessuna corrispondenza tra Clau e qualcosa che è stato scritto all'interno di questo foglio, di altri fogli di lavoro esattamente corrispondente a Clau, non solo per maiuscole e minuscole, ma anche per intero contenuto. Verifichiamo invece se io questo nome lo modificassi in Clau, ecco, lui chiaramente lo troverà, ovunque io mi trovi anche su foglio 2, faccio trova successivo, lui si ferma esattamente su Clau. Bene, ci sarebbero altre cose da approfondire, ma quel quanto concedere la patente europea, l'unica cosa che vi chiederanno è come aprire questa finestra di dialogo, trova e sostituisci, per trovare qualcosa o sostituire qualcosa, solitamente non approfondiscono assolutamente nulla. in merito a queste cose che vi ho detto, e altre diverse cose, per invece la certificazione ECDL Advanced, dove sono chieste queste cose come ben altre. Chi dovesse conseguire tre certificazioni Advanced, delle quattro possibili, avrebbe la certificazione Expert. Questo per dire qualcosa, tutto per me, comunque siamo arrivati già quasi vicino a 10 minuti, quindi chiudo qui questa lezione e vi rimando l'appuntamento alla prossima. Grazie mille per l'attenzione a tutti, buona giornata.